Tutti i danni della didattica a distanza di Roberto Marchesini. Finalmente abbiamo qualche dato che ci permetta di rispondere a un'importante domanda. Quali sono gli effetti del lockdown e della didattica a distanza, la cosiddetta DAD, su bambini e ragazzi? Partiamo da una recente ricerca del Gaslini di Genova, condotta su 6.800 soggetti in tutta Italia. Emerge che nel 65%, nel 71% dei bambini con età rispettivamente minore o maggiore di 6 anni, sono in sorte problematiche comportamentali e sintomi di regressione. Per quel che riguarda i bambini al di sotto dei 6 anni, i disturbi più frequenti sono stati l'aumento dell'irritabilità, disturbi del sonno, disturbi d'ansia, inquietudine, ansia di separazione. Nei bambini adolescenti i disturbi più frequenti hanno interessato alla componente somatica, come disturbi d'ansia e somatoformi, con la sensazione di mancanza d'aria, e disturbi del sonno come difficoltà di addormentamento, difficoltà di risveglio per iniziare le lezioni per via telematica a casa. Faccio presente che difficoltà di addormentamento, difficoltà di risveglio, sono in genere associate a una tendenza depressiva, mentre i disturbi del sonno sono ormai considerati tipi della prolungata esposizione a schermi elettronici. Infatti il movimento, i colori forti, la luce violenta, le onde elettromagnetiche alterano i ciclici cardiani, riattivando l'organismo. Tornando ai ragazzi tra i 6 e i 18 anni, è stata osservata una significativa alterazione del ritmo del sonno, con tendenza al ritardo di fase. C'è adolescenti che vanno letto molto più tardi e non riescono a svegliarsi al mattino come una sorta di jet lag domestico. In questa popolazione di più grandi, prosegue la ricerca del gaslini, è stata inoltre riscontrata un'aumentata instabilità emotiva con irritabilità e cambiamenti del tono dell'umore. Una rassegna mondiale ha riscontrato, nei ragazzi tra i 6 e i 18 anni, l'emergenza di una serie di atteggiamenti causati dal lockdown. Incertezza, paura e isolamento, disturbi del sonno, incubi, inappetenza, agitazione, inattenzione, da non confondere con la disattenzione e ansia da separazione. In Scozia, il lockdown sembra aver provocato sintomi simili a quelli della sindrome post-traumatica da stress, in genere causato da un evento traumatico, catastrofico o violento. In genere, il PTSD è la sindrome dei soldati coinvolti in combattimenti pesanti. Oltre a questo sono stati rivelati stress, preoccupazione, ansia e senso di solitudine. In Francia, stress, depressione e ansia. A tutto questo vanno aggiunti i danni non sperimentalmente rilevati provocati dalla mancanza di sport e movimento, fondamentali per uno sviluppo psicofisico equilibrato dei ragazzi, e la deprivazione di sole e di aria aperta. Conosciamo anche l'importanza del gruppo dei pari nello sviluppo dei minorenni, ma non possiamo ancora dire quali saranno le conseguenze della sua deprivazione. Concentriamoci ora sulla DAD. Avviene tramite computer, tablet o cellulare e può svolgersi tramite trasmissione dal vivo o registrata. Io stesso sto sperimentando questa forma di didattica e posso assicurare che il tempo di attenzione rispetto alla modalità in presenza crolla drammaticamente nella versione live. Figuriamoci in quella registrata. Se poi ci aggiungiamo le difficoltà tecniche legate alla connessione, alla tenuta dei programmi, alla funzionalità delle periferiche, possiamo avere un'idea del livello di questa forma didattica, per non parlare degli scherzi e dell'incombente presenza dei genitori. È come se tutto questo non bastasse e dobbiamo aggiungere a questo disagio anche gli effetti dell'uso dei media device per molte ore al giorno. L'Italian Journal of Pediatrics ha pubblicato una rassegna sulle ricerche che riguardano l'uso di questi apparati nei bambini sotto i sei anni. Ne risulta un'importante riduzione dei punteggi in matematica e nell'attenzione, con un'importante perdita di efficienza. Abbiamo inoltre obesità, sedentarietà, comportamenti alimentari dannosi, mal di testa, problemi al collo, alle spalle, disturbi del sonno, danni agli occhi come fatica, irritazione, secchezza degli occhi e infine una ridotta interazione tra i bambini e i genitori. Tutto questo, come abbiamo detto, riguarda i bambini in età prescolare, ma per quale motivo questi effetti non dovrebbero riguardare i ragazzi in età scolare che usufruiscono della DAD? A quanto ne so, molti genitori possono confermare tutto ciò che la ricerca ha rilevato. Insomma, il quadro è preoccupante, per non dire drammatico. I genitori accettano tutto questo perché sono convinti che si tratti di un sacrificio temporaneo in attesa di tornare alla normalità. Scuola in presenza, giochi, relazioni, aria aperta, sano movimento. Non vorrei deludere nessuno, ma i media, all'inizio di questa faccenda, hanno lanciato una nuova parola d'ordine, nuova normalità. Il complottismo non piace a nessuno, quindi l'uso contemporaneo e massiccio di questa locuzione sarà sicuramente un caso. Un'idea venuta improvvisamente e contemporaneamente a politici e giornalisti. Anche se fosse perché non credergli? E se questa fosse davvero la nuova normalità? Se davvero stessimo sperimentando la nuova scuola? Potrebbe essere. Cari genitori, avete mai preso in considerazione l'homeschooling? Per saperne di più sull'homeschooling e le scuole parentali per insegnare a casa i propri figli, si può leggere il dossier di Basta Bugie sull'educazione parentale.